prezzi convenienti e qualità eccellente carni salumi formaggi l'azienda fratelli villani di nocera superiore fornisce quanto di meglio c'è sul mercato producendo e commercializzando i suoi prodotti nella grande distribuzione e direttamente al consumatore disponibile ora anche il nuovo punto vendita di via risorgimento con trada pucciani a nocera superiore troverete salumi prodotti esclusivamente da noi carne suina di bovino castrato carne di bue e poi bovino adulto agnelli carne di vitellino scottona oltre a polli tacchini e conigli fratelli villani carni e salumi tradizione e qualità dal 1984